Eleonora Daniele dopo la mostra del cinema di Venezia a inizio settembre scorso si concede un'altra rara apparizione mondana in coppia. La conduttrice 46enne sfila insieme al marito Giulio Tassoni su red carpet della serata di chiusura della festa del cinema di Roma. Eccoli in passerella, mano nella mano, elegantissimi in nero. I due, insieme dal 2002 quando si conobbero una cena tra amici, sono genitori di Carlotta, nata il 25 maggio del 2020. La Daniele e Tassoni sono diventati marito e moglie dopo 16 anni di fidanzamento. La presentatrice di storie italiane, programma di punta di Rai 1, vive il suo privato con molta riservatezza, cedendo sempre pochissimo agli impegni ufficiali accompagnata dal marito.